Oggi sono qua per parlare di una cosa a cui tengo molto, è un nuovo clan, si chiama Ness E come vedete qua dietro di me ho la prima pagina del clan Per ora siamo 5 ragazzi, siamo comunque tutti amici Poi più avanti iniziamo a prendere gente così, ma non vi preoccupate Allora, praticamente questo clan l'abbiamo fatto perché ci volevamo divertire un po' L'abbiamo fatto soprattutto perché vogliamo tentare insieme di sfondare all'estero Perché abbiamo visto che come singola persona è troppo difficile, comunque non si può fare Per cui insieme, mettendo un po' le clip insieme, facendo come gruppo così E possiamo riuscire a fare qualcosa di veramente bello Poi casomai se voi volete entrare così, comunque prima dovete conoscerci Così perché comunque è una bella opportunità E anche un bel progetto, faremo poi nel futuro un po' di progetti però ve ne parleremo poi Intanto dopo di me vediamo, avrete anche tutti il vlog di tutti i membri del clan Per cui Per cui Vi lascio con la pagina del clan Spero che vi iscrivete, metto anche il link qua Lo metto qua, qua, così Spero, se avete voglia, fateci un salto e iscrivetevi Ciao a tutti, sono NesPix e sono qui per presentarmi il primo video ufficiale di Nes Abbiamo creato questo team per ampliarci all'esterno invece che in Italia Veramente ci faremo conoscere anche in Italia molto meglio E niente, seguiteci in molti Abbiamo già qualche piccolo progetto da proporvi E nient'altro Ciao a tutti Sono Ste e qui c'è il mio fratello Dalla E appunto volevamo semplicemente darvi la notizia che io, Amiettol e altre abbiamo fondato questo clan Nes Vogliamo, voi lo sapete che io sono uno a cui piacciono le cose diciamo old school A cui fanno cagare questi nuovi clan che stanno uscendo e queste cose qui Ma penso che questa sia veramente una cosa buona E anche perché è fatta da persone che si conoscono Siamo tutti un gruppo di amici che cazzeggiano su Xbox, Mv3, così Ci è venuto in mente di fare questo nuovo clan così Perché siccome stiamo sempre assieme così Fare anche video dove ci rappresentano un po' tutti noi assieme Abbiamo deciso di creare questo nuovo clan che è l'idea è partita da Amiettol E adesso ci siamo dentro anche noi E vedremo chi far entrare Abbiamo in mente altri progetti, cose nuove Sì appunto abbiamo in mente un po' di cose nuove Abbiamo in mente un po' di progetti di cui abbiamo già parlato Ma di cui riparleremo Amiettolo si è fumato a Mitsu E scusate per quello E vabbè Sostanzialmente volevamo solo darvi sta notizia Speriamo vada abbastanza bene Diciamo che questo è solo l'inizio di una cosa Sostanzialmente ci rivedremo Vedremo un attimo che progetti fare Ci rivedremo Ma è giusto una chicca per voi Andiamo Il famoso accappatoio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Qui Mass Per il clan Ness Mass Ness E basta Ho già perso in partenza Presentazione del clan Appunto Siamo io Omi Dario Ste Il fratello di Di Ste Che sono i primi che hanno aderito all'iniziativa Diciamo E Abbiamo un po' di progetti Un po' di idee Un po' di cose da fare Un po' di Cioè Vi ho fatto vedere Qua abbiamo Abbiamo fatto già Il primo montaggio Di introduzione Solamente Che è stato fatto da me E da Un mio amico Pixet Che D'Arietto Che però Era con un altro nome Perché eravamo precedentemente In un altro clan Quindi io vi lascio Con il montaggio E spero Che vi scriviate Perché è veramente Un progetto importante Per noi E io vi saluto Qua come sempre Sono io E Vi lascio Al montaggio Beh Bella a tutti Vaffanculo Per presentare Il nuovo team Creato da 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 Da